Buongiorno a tutti, come vi avevo detto Enric si è fatto crescere il pizzetto, i baffetti e gli stanno proprio bene. E lui era solo col papà perché Elga appunto aveva detto che il weekend l'avrebbe passato dai suoi genitori a Brindleton Bay con i tre figli piccoli. Infatti poi andremo anche a trovare lei a Brindleton Bay. Intanto vediamo se lui ha da fare in giardino, mi sembra che non ci sia niente da fare, quindi aspettiamo domani. Volevo solo farvi vedere qualche carino lui con i baffetti e con il pizzo, come il suo papà del resto, ce li ha quasi uguali al papà, lui c'è solo un pizzo un po' più discreto che va solo sotto il mento e però gli sta gran bene. Adesso io lo mando a fare un po' di jogging e domani vedremo questo appuntamento di Enric e Ruth. Ma intanto io darei un'occhiata a Elga che è con i figli più piccoli a Brindleton Bay. Siamo a casa dei nonni, vi presento la casa dei nonni, eccola qua con il loro giardinetto. Loro hanno qui la biancheria da lavare ma oggi di Lugia non se ne parla proprio. Qui c'è una dispensa con un po' di scope, di cose che servono per pulizie varie. Qui c'è un semplice salottino e la casa non è cambiata di una virgola da quando ci ha vissuto Elga con i suoi fratelli, la sorella e i due fratelli. Qui ci sono gli scacchi, c'è una scala, qui c'è la camera da letto dei genitori e i figli, lui era riuscito a guadagnare bene con l'orto. Qui ci sono gli attrezzi da giardiniere, i naffiatoi e tutto. Qui loro non hanno avuto né tempo né voglia di costruire il bagno all'interno. Non c'è ancora qualcosina dell'orto che lui faceva il contadino e vendeva al mercato i prodotti dell'orto. Adesso che è in pensione si è tenuto un minimo orticello e qui c'è il bagno esterno. Oggi è una giornata di peste proprio e al piano di sopra ci sono ancora le camere di come erano, esattamente come erano quando Elga era piccola. Qui lei dormiva con sua sorella, nella camera più grande perché era stata adibita anche a sala giochi, ma avevano solo questa cassa panca con i giochi e qualche giocattolino qui e una scrivania che si dividevano in due e qui era la stanza dei due fratelli che avevano solo lo sacchiotto di peluche e la loro scrivania. E poi quando volevano giocare andavano tutti su questo grande tappeto, tutti quanti, ma giocavano molto all'aperto quando il tempo lo permetteva. Qui eccoci, siamo al Tu vuoi giocare e allora sfida un sim e sfida tua sorella Britta che la settimana prossima diventerà adolescente. So, è sabato alle 17.21, domenica Enric farà la sua uscita con... Dov'è finita Enric? Ah, eccola qua. Avete mangiato? Ok. Enric, amore, torniamo a casa domenica sera, tranquillo. La mamma torna a casa domenica sera, si passa questo weekend con i suoi genitori. Lui deve usare il bagno, perciò tu vai via da qui, gioia, vai qui, vai qui a giocare e gioca anche tu, partecipa o guarda. E Elga intanto pulisce perché, insomma, lei è a casa dei nonni e vuole riponi e poi riponi anche questo libro che non si sa da dove salta fuori. E questa è la cucina con la sala da pranzo, tavoli grandi come si usava una volta. E questo tavolo l'ha proprio costruito il Georg e con le sue manine sante. E niente, questa è la casetta dei nonni a Brindleton Bay e fra poco, no, fra poco mica tanto, vanno tutti a letto. Adesso, tu volevi giocare, vai qui e gioca, apri, ma non tu, tu volevi giocare, apri e gioca con il cavallino, gioca. Mentre due sorelle si stanno facendo la partita a lama. E hanno già finito, tu abbraccia la tua nonna, altre scelte, abbraccia, non c'è più abbraccia, ah sì, abbraccia affettuosamente la nonna. E tu vai dal nonno e parla un po' col nonno. Eccola, stanno facendo un po' di pace lui e sua figlia, le sta facendo i complimenti, dice guarda, io mi scuso per come mi sono comportato a casa tua. Non avrei dovuto sgridarti, però vedevo tua madre, poverina, che anziana com'è, si era messa a fare il bucato. Ma basta, è tranquillo, domani prima di partire, se non c'è questo temporallone, il bucato lo faccio io. E così lascio a mamma la biancheria pulita. Appena smette di piovere vado a fare il bucato, grazie cara, sei diventata una persona veramente in gamba. Ma facciamo anche il barbecue domani che è domenica? Eh sì, tesoro, mi piacerebbe tanto, però io purtroppo il barbecue non ce l'ho. E non saprei dove farlo. Magari la prossima volta lo possiamo fare. Vedrò di comprare un barbecue, così la prossima volta che venite faremo anche una bella grigliata insieme. Intanto la mamma, il papà, mamma Elga e il papà Georg, suo padre Georg, si fanno una bella chiacchierata e lei è molto felice. Cosa ci è venuta a fare qui? È venuta a ricordare con nostalgia i tempi in cui aveva i figli piccoli. E dice qua ci dormivano i miei due giovanotti che adesso uno dei due è padre a sua volta e qui ci dormivano le mie due ragazze, una delle quali, Elga, è madre di ben quattro figli. E sì, dice era bello averli piccoli, però adesso racconta una storia alle tue nipoti e racconta una storia, racconta una storia, leggi un libro ai bambini, dai, leggi un libro alle bambine. Allora, leggi, no? Non c'è leggi alle bambine, apri, vediamo se si può leggere il primo unicorno, leggi al bambino, uno, due e tre, il primo unicorno. Tu, Elga, vedi di dare una pulita un po', insomma, fa vedere che fai qualcosa, se non piove vai a fare il bucato, ma sta diluviando, quindi non c'è né da pulire né niente, volevo... Gioca a scacchi con tuo padre, gioca con Georg e Georg è malato, poverino, oh, gli gira la testa. Intanto i bambini ascoltano la storia della nonna. Questa notte dormiranno qui e domani sera riprenderanno il treno che, con tante ore di viaggio, c'è quasi la notte intera da passare in treno, però questa scena è bella. La nonna racconta una bella favola ai tre bambini e Elga, finalmente era pacificata col suo papà, sta giocando a scacchi con lui e noi ce ne torniamo a vedere come va Enric. Ed eccoci da Enric che la sera prima di chiedere un appuntamento alla sua bella, chiede un po' di consigli al papà e gli chiede per esempio del fichi fichi, così per dire papà mi spieghi cos'è, come succede, come si corteggia una donna. Ma qui c'è scritto chiede del fichi fichi, in realtà lui chiede al padre dei consigli su come affrontare un appuntamento con una ragazza, insomma lui è ancora giovane, ha 16 anni, è proprio ancora molto molto inesperto, però sa di provare qualcosa per la bella Ruth. E quindi gli chiede del fichi fichi, il papà glielo sta spiegando e poi conversazione profonda, papà io domani vorrei invitare fuori Ruth. Ah sono molto felice, mi piace tantissimo quella ragazza, è un po' selvatica però mi piace molto, per cui ti benedico figliolo, mi raccomando però ti devi comportare da gentiluomo, prima si fa amicizia, sì sì papà lo so, lo so. Va bene, intanto è venuta fame mi sa a tutti e due, no al papà no, Enric si prende qualcosina da mangiare, per esempio mi sa che però questo è andato a male, no, eccellente. Che prendi una porzione, ah già ma lui è schizzinoso come non detto, no 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 no, fai un pasto veloce e di sera ti prendi un tramezzino al profutto formaggio e ti bevi anche, fai un pasto veloce, fai un pasto veloce, ti bevi col tramezzino un succo di arancia. Noi ci vediamo domani in mattinata che lui vuole, perché poi deve andare agli scout e quindi Amo deve anche controllare e quindi ci vediamo prima che lui vada dagli scout, lui chiede un appuntamento a Ruth. E dove la porta? Eh eh, questo lo saprete domani. Adesso controvisualizza l'avanzamento del distintivo e dormi. Ok, ci vediamo domattina. Ed eccoci alla domenica mattina, presto, lui chiede un appuntamento, già che non può usare il telefono. Allora lui chiede, c'è già un piccolo invita nell'otto attuale. Vedete, c'è già un piccolissimo flirt fra loro due. Poi invitiamo anche, ma prima facciamo, perché voglio farvi vedere anche Gabriele Gunther, quanto sono belli. E adesso cosa c'è? Cosa ti sta dicendo tuo papà che ti scoraggia? Tu gioia, vai a fare il giardino, che oggi non devi andare a lavorare, che è festa, quindi fai una bella super vendita di tutto, super vendita e super vendita. Ecco qua. Intanto lui chiama la sua, quella che spera che diventerà la sua bella. E ve la faccio vedere, quanto è venuta carina. E' così che mi è venuta, non è che l'ho cambiata, ok. No, no, il telefono non c'era, gioia, non c'era. Allora, condividi l'entusiasmo della festività. Smettila con sto telefono, non so come fare per toglierglielo. Guardatela, eccola qua, la nostra Ruth. E' graziosa, è una ragazza pulita. Speriamo che non sia selvatica, come dice invece Gunner. E poi, insomma, le dice, facciamo che andiamo avanti con il romantico, flirta e vediamo se questa cosa va avanti. Poi, visto che lui ha bisogno di un po' di divertimento, si fanno una partita a qualcosa, ma lei ci sta però. Vedeste la sorellina invece come è cresciuta brutta, c'ha il naso piatto, uguale al padre, se vi ricordate il padre. E altre scelte, romantico, complimentati per l'aspetto, dille sei proprio carina. Sai che oggi non piove, potremmo andare da qualche parte, potremmo davvero andare insieme da qualche parte, visto che è nuvoloso ma non piove. Ti porto in un posticino speciale. Ed eccoli alle scogliere, dove lei mi sembra molto flirtante, complimento sincero, perché, ma perché da lì non potete fare azioni? Allora, vai ad accendere il fuoco, poi scava, perché così le fai un bel regalo. E dopo di che, chiama da te, ecco, chiama da te. Quella smanetta sempre con... Che nervoso, d'altronde è una cosa che non si può impedire, non si può proprio impedire. Allora, chiama da te. Io vado a farmi un bagno in piscina prima, dai, vieni anche tu, ti prego. Corri, che fa tanto caldo oggi, cosa stai lì vicino al fuoco? Prima facciamo un bagno e poi ci mettiamo vicino al fuoco. Corri! Ma fa caldo? Va bene, allora, anche tu, siediti qui insieme. È così. Lei ha un bel costumino da bagno, l'avete visto? Mmmmm. Vai a sederti, Enric. Dai, tesoro, fammi un po' di... dammi un po' di soddisfazione. Siediti qua insieme. Ecco, oh, vai, tesoro, vai. Siediti qui insieme. Vi faccio vedere il costume di... Ecco, le ho preso il costume da bagno, quello con il gonnellino, e sotto le ho messo... Insomma, e quanto di più possa assomigliare... Eh, no, adesso parlate, complimento, sincero. E no, Enric, non puoi starmi male adesso, santo cielo. Oh, siete qui in un posto romantico. Allora, vai in visibilio per diventare... Eh, ma lei è molto flertante. Ragazzi, approfittiamo, battiamo il ferro finché è caldo. Accoccolati, vediamo un po'. Vediamo un po'. Lui è carino e anche dimagrito un pochino. Eh, oh, sì, oh, sì, ragazzi, non me l'aspettavo. Sarà il momento del primo bacio? Sarà il momento del primo bacino? Accoccolati poi, andate ad abbracciarvi davanti al falò. Sì, tutti e due in costume, molto bene. Tanto fa caldo, è il primo giorno di autunno, ma il cielo è sereno. Grazie al cielo non c'è il tempo di ieri che pioveva, che Dio la mandava, anche a Brindleton Bay, ma anche qui. Abbracciati davanti al fuoco. Oh, sì, quanto siete carini. Ma dai, ma che belli che siete. Poi, no, no, continua col fril romantico, chiedile se è single. Fra poco arriverà il primo bacio, eh, lo so, insomma, sta andando la barra. Chiamo, chiamo. Guardateli quanto sono carini. Oh, Dio! Oh, Enric! Lei non dovrebbe essere qui da sola con te. Se lo sa suo padre la uccide. La uccide. Eh, sì. Sì, è single. Fai il baciamano. All'epoca si faceva il baciamano, si usava tantissimo. Oh, grazie, caro. Vediamo se può offrirle anche una rosa. Sì, le offre una rosa. Esattamente. Oh, grazie, caro. Ma quanto sei dolce, quanto sei carino, romantico, vediamo. Ma non c'è stringi, flerta. Oh, oh, molto flertante lui. E perché? Perché non si sta divertendo. Scommettiamo che se invece le dà il primo bacio, no, non te ne andare. Non te ne andare. Perché, eccola, meno male. Primo bacio, ragazzi. Enric e Ruth stanno dando, si stanno dando il loro primo bacio. Santo cielo. Eh, il primo bacio, le orologia. Stringila, a questo punto stringila. Ma veramente, ma siamo fidanzati? Beh, ancora no, Ruth. Ma se vuoi, io ti chiedo di diventare la mia fidanzata, se ti fa piacere. Ne sarei entusiasta. Dove andate? Non devi andare a scuola. No, no, no. Eh, mannaia. Eh, lui ha dovuto andare alla scuola militare. Lì non si sgarra. Comunque, ragazzi, è meraviglioso. Si sono intesi subitissimo e sono, praticamente, la prossima volta che si vedranno, saranno fidanzati. Guardate lui che faccia da l'umacone che c'ha e sono, dai, ditemelo, che sono una bella coppietta. Mentre lasciamo Gunnar, che fa il bucato così, fa una sorpresa alla moglie, a lui, mancata tantissimo questo weekend della moglie, lui va ufficialmente a chiedere la mano al padre di Ruth. Eccolo qua, mentre sì, la bimba dov'è? Volevo farvela vedere. Comunque, eccola qua, eccola qua, scusate, blocco, ve la faccio vedere. La piccola Rachel mi fa troppa tenerezza con l'ombrello in casa, no, ma guardate il naso, per favore. Eccola qui, uguale al suo padre. Allora, lui adesso parla con Matthew e gli sta dicendo sai, a me piace tanto, lo so che ti piace la mia bambina, credi che non me ne fossi accorto? E sono venuto per chiederti il permesso di frequentarla, di poter approfondire la nostra amicizia e fidanzarci appena possibile e quindi poi di sposarci. Insomma, le mie intenzioni sono serie, amo tua figlia. Matthew gli sta dicendo, guarda, sei un ragazzo di buona famiglia, mi piace molto e quindi io ti do assolutamente il permesso, mi raccomando, comportati da gentiluomo, fai tranquillo, ho un'educazione, mio padre mi ha già detto come ci si deve comportare con una ragazza e quindi con la tua benedizione io frequenterei la tua figlia Ruth. Matthew è felicissimo di concedere sua figlia a Henrik, ovviamente figlio di un medico, viene da una famiglia che può dare prestigio anche a lui che, insomma, è un po' un contrabandiere, non fa un mestiere proprio onesto, quindi sapere sua figlia sposata al figlio di un medico per lui è prestigioso. Su questo permesso di Matthew di frequentare Ruth da parte di Henrik io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti, ciao ciao!